Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un'occasione per noi storica, se vogliamo definirla così, integro quanto detto dall'assessore, sottolineando piacevolmente come anche l'US Ancona 1905 sia fra i promotori con il suo patrocinio di questa iniziativa, anche perché noi come associazione di tifosi essenzialmente vediamo questo progetto in prospettiva per dare un'integrazione a quelle che dovrebbero essere, come si dice in certi ambienti, la mission di una società importante come quella che speriamo diventi l'US Ancona 1905. Quindi con una forte valenza anche sul territorio dal punto di vista sociale. Questo perché lo sport, parlo un po' da tifoso, un po' da cittadino, non può essere più visto solo e esclusivamente come un problema di ordine pubblico, ma lo sport ha una valenza sociale, educativa fondamentale. Questo deve diventare un motivo trainante per chi è che fa sport e noi speriamo con questa iniziativa che fra le prime in Italia possa diventare anche un vanto per la città di Ancona, perché comunque Ancona ha tutte le carte per poter ambire a palcoscenici importanti. Credo che sia e possa diventare un fiore all'occhiello per una società come l'US Ancona 1905 perché la sua importanza, la sua grande visibilità poi abbia anche un ritorno sul territorio. Passo la parola a Silvana Pazzagli che è la Presidente di questa iniziativa che ci coinvolge insieme alla Sata Shakur che ringrazio e all'Oratorio Salesiano che veramente ancora mi sento in dovere di sottolineare come impegno. Ancora grazie a tutti per il vostro intervento.